Welcome to Mirror TV! Ragazzi sono qui per parlare dell'ultima montata di SmackDown, partiamo subito con la Bloodline. Stavolta però vi era anche Roman Reigns, il nostro Tribal Chief, il nostro Head of the Table, il nostro campione mondiale indiscusso. Allora, sono stati 15-20 minuti importanti per la Bloodline, io credo sia stato anche un ottimo segmento che mi ha coinvolto tantissimo. All'inizio si è parlato di quello che è successo nelle ultime settimane, un po' le solite cose, va bene, però poi è diventato tutto quanto molto interessante perché si è fatto un po' l'interesse di questa stable, che aveva bisogno secondo me di questo segmento. Solo Sikoa, chiamato a riconoscere Roman Reigns dopo quanto è successo a Clash of the Castle perché Roman Reigns non si vedeva da parecchio e quindi Solo Sikoa in questa puntata ha riconosciuto Roman Reigns e cosa ha fatto Roman? Se lo è abbracciato, quindi si doveva chiudere così, no? Il segmento con Solo Sikoa che è entrato ufficialmente a far parte della Bloodline avendo ottenuto anche il consenso del Tribal Shift ma era Semi Zain. Cioè era Semi Zain che voleva vivere un momento simile a quello di Solo Sikoa anche perché lui, come aveva fatto capire, non era stato ancora ben riconosciuto dalla Bloodline e Roman però non sembrava, almeno inizialmente, così interessato a fargli fare, o meglio a dargli lo stesso ruolo che aveva dato poche anzi a Solo Sikoa e a Roma Reigns che era diventato anche provocatorio invitando Semi a un certo punto a togliersi la maglietta della Bloodline sembrando con i peggior auspici sembrava quasi che Roman Reigns stesse mettendo una piedra trumbale su Semi Zain nella Bloodline e ci ha messo pure Jey Uso a rafforzare questa cosa perché Jey Uso che ha recitato una parte straordinaria in tutto questo segmento, alla fine è quello che strappa addirittura dal colpo la maglietta di Semi Zain e sembrava davvero essere mai pronto oramai Semi Zain a essere distrutto da tutto quanto la Bloodline perché Roman Reigns era stato molto vago e sembrava più tendere dalla parte di quello che alla fine non avrebbe riconosciuto la presenza di Semi Zain nella Bloodline invece gli ha fatto togliere la maglietta toglie tra virgolette, visto che Jey l'ha strappata per un motivo incredibile avevano preparato una maglietta personalizzata per Semi Zain che se la vedete tra le mani la guarda con gli occhi al cuoricino la indossa e ragazzi quella maglietta legherà Semi Zain da qui al resto dei giorni con la Bloodline è stato un segmento davvero recitato nel migliore dei modi dove sembrava veramente dietro l'angolo oramai il turn totale della Bloodline a Semi Zain invece ci hanno sorpreso nel migliore dei modi è stato recitato benissimo da tutti quanti Roman e Jey in primis poi Semi ci mette come al solito Gesù ma è un fenomeno assoluto su questo c'è poco da dire bello, bello, bello un Semi Zain che alla fine va anche a abbracciare Roman Reigns non che lo avesse voluto tanto Roman quell'abbraccio però il Travel Shift se l'ha lasciato dare bellissima anche la relazione di Reigns che soghignava in quel momento bello, bello, strano, convogente 15-20 minuti di minutaggio poco da dire perché ragazzi se si critica SmackDown i segmenti, i segmenti di probabilità di citazione della Bloodline incluso ovviamente Paul Heyman sarebbe preoccupante sarebbe preoccupante perché sono secondo me ancora una delle migliori cose dello show blu quello che ti convogge di più certo si c'è sempre la logica c'è, hanno tutti i titoli, non perdono mai Roman de Qua, Yusus de la però quando ci sono loro su ring e ti fanno il segmento per intrattenerti secondo me lo fanno nei migliori dei modi secondo me lo fanno nei migliori dei modi poi c'è Semi Zain in questo momento che è un diamante è un diamante eccezionale per la WWE lo stanno sfruttando nei migliori dei modi detto questo andiamo avanti e parliamo se non sbaglio del primo match della serata che è stato Liv Morgan contro Lacey Evans contesa strana che pure qua però ti doveva dare un qualcosa di diverso al bel match ti doveva far capire un po' di cose e che ti ha fatto capire? Lacey Evans per tutto il match ha urlato un faccio a Liv di non essere estrema cioè l'ha accusata di non essere minimamente violenta e estrema e quindi non pronta a quello che accadrà Extreme Rules tra la campionessa femminile di SmackDown e Ronda Rousey è un Elimorgan che ha incassato tanto all'interno della contesa si vuol dire che la sua avversaria l'ha dominata cioè Lacey Evans ha sbattuto a destra e sinistra Liv come voleva una Liv che è anche un po' affaticato a rientrare con la testa nel match e quando lo va a vincere però quando la sua avversaria si perde in un bicchiere d'acqua addirittura a un certo punto Lacey Evans vuole farsi squalificare andando a prendere un candlestick fuori dal ring per poi risalire ovviamente all'interno del quadrato fare per colpire Liv che lì però la frega gli connette Coldbreaker Oblivion 1-2-3 è stato un match che faccio fatica a dire che mi è piaciuto tantissimo ma anche a dire che è stato bruttissimo perché doveva darti un qualcosa e questo qualcosa poi si è legato al post-match che secondo me è stata la cosa migliore io voglio prendermi tanto il post-match di questa di questa storia tra Liv Morgan e Lacey Evans che hanno raccontato proprio una storia vera e propria se tu l'analizzi dall'inizio alla fine perché è andato oltre il classico match di wrestling assolutamente proprio Liv Morgan una volta aver battuto Lacey afferra al candlestick e pensa e ripensa se usarlo o meno sulla sua avversaria che oramai era stata battuta alla fine Liv Morgan spinta anche dal pubblico e ripeto spinta anche dal pubblico decide di usare il candlestick ha deciso di utilizzarlo su Lacey Evans l'ha fatta anche uscita al quadrato continuando a bastonarla per bene e non contenta poi la campionessa ha tirato fuori il tavolo il tavolo che viene riconosciuto dal Davido di Universal come se fosse un oggetto sacro difatti ho sentito un boato clamoroso Liv Morgan che fa? ci stende Lacey Evans su quel tavolo per poi salire sul paletto e connette una senton bomb bellissimo un volo perfetto Liv inquadrata anche nei migliori dei modi dal camera bisogna fare i complimenti anche al camera che ha inquadrato tutto nel miglior modo possibile e ha venduto anche benissimo il momento cioè è stato bellissimo questa scena di Liv che si lancia dal paletto di Gattiferia per andare a distruggere golei che l'aveva accusata durante il match per tutta quanta la contesa proprio di non essere estrema mi è piaciuto mi è piaciuto molto il post match se nella contesa sembrava no che non avessi fatto chissà quale non avessi provato chissà quale piacere nel vedere il match impostato in quel modo posso dirvi che nel post match mi è piaciuto davvero tanto l'idea l'idea ora vediamo che succederà nelle prossime settimane Liv Morgan sicuramente in questo momento è tornato ad essere molto over e questa è la miglior cosa in vista di Extreme Rules fidatevi detto ciò ora mi dobbiamo parlare di cose che a me non interessano proprio ma non per cattiveria non riesco a appassionarmi a questa roba oltre ai segmenti degli itro nel backstage abbiamo avuto un match tra New Day e Marseille e Mansois i due modelli di Max Tupré ora io fatico a commentarvi la contesa posso parlarvi del post match post match che io ho trovato la cosa più bella di tutto quello che vi ho appena raccontato incluso anche i segmenti degli itro e gli street profits lì nel backstage perché quella roba per me è monnezza è roba che non vorrei vedere una puntata di SmackDown non capisco ancora perché gli street profits siano a SmackDown per fare sta roba con gli itro fatico a capire perché stiamo vedendo i modelli contro New Day e fatico anche a parlare della loro contesa che non mi ha dato proprio niente perché Marseille e Mansois sono bravi a fare i modelli a farsi fischiare perché sembrano due coglioncelli però non mi danno nulla sul ring ma nulla 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 mi dà molto di più il post match quando Max Tupré si incazza si arrabbia con i modelli non accettando quasi più le loro sconfitte e chissà se questo porterà Max Tupré a salire sul quadrato per dare un po' di vittoria alla sua stable credo che sia questo il messaggio che si vuole lanciare e me lo auguro perché Max Tupré è l'unica cosa interessante di quella stable mi spiace anche per Maxine Maxine cioè la trovo simpatica non è più è una roba che se c'è non c'è mi cambia niente però ecco vi ho raccontato queste 3-4 cose che di SmackDown davvero non mi piacciono per niente New Day contro Max Tupré il match la roba degli Itro la presenza di Street Profits ancora SmackDown così senza senza basta il favore basta perché SmackDown deve ripartire a un certo punto e questi vanno a prendere ovviamente includo tutti vanno a prendere 20-25 minuti di puntata e non si può fare non si può fare perché poi lo show blue ha lottatori di livello ha lottatori di livello detto questo andiamo avanti e parliamo di Strowman contro Odis bravo Strowman che come vi sto dicendo Nemiro TV sembra quasi non essersene mai andato è uno Strowman che è tornato a fare quello che gli riesce meglio ovvero intrattenere il pubblico con il suo comedy col suo modo di dimostrare di essere il Monster Among Men indistruttibile ad esempio distruttivo perché anche con Odis di fronte Brom Strowman si è comportato nei migliori dei modi quando si pensa al Big Man come lo vuole la WWE soprattutto la WWE Vince McMahon è stato uno Strowman che ci ha fatto divertire con Odis per cosa? per il match fisico però capisco che questo tipo di wrestling non può piacere a tutti quanti ma se si è fan della WWE bisogna mettere sicuramente una cosa che è quello che hanno fatto Strowman e Odis per quanto sia stato un match fisico pesante ha intrattenuto molto il pubblico lo ha intrattenuto tantissimo a un certo punto quando Strowman era in difficoltà contro Odis e le magagne di Jack Gable il pubblico incoraggiava il mostro il mostro di McMahon quindi ha funzionato nel migliori dei modi quindi ragazzi là c'è poco da dire quello che hanno fatto Strowman e Odis l'hanno fatto nel migliori dei modi perché hanno ottenuto quelle reazioni lì quindi c'è poco da dire e io tra l'altro sinceramente con questa parte la salvo qua da SmackDown ci può stare che Strowman faccia sta roba soltanto che ci stanno mandando Otis da Raw ci stanno mandando Otis e c'è Gable da Raw per fare una storyline con Braun Strowman che è stato fatto trattare a SmackDown dopo che è tornato non ha tanto senso logico questo secondo me la storia o vi deve piacere o non vi piace sono due le cose o vi deve piacere oppure non vi piacerà mai però proprio la logica del mandiamo Gable e Otis a SmackDown per fare un video con Strowman che è appena tornato non è che mi faccia impazzire faccio i complimenti invece ai due lottatori per quello proposto con Strowman che tra l'altro ha trovato la vittoria con la powerbomb sua veramai lui ha questa powerbomb micidiale come finisher ha sostituito la running power slam e va bene così è anche uno Strowman che ha quasi ha quasi assaporato l'idea della sconfitta l'idea poi non ci avevo mai creduto mi ricordo la verità detto questo ah stasettimana abbiamo avuto un promo importante di Drew McIntyre lo scozzese ha sfidato Canyon Cross per Extreme Rules in uno strap match e ci ha anche spiegato le regole mentre lo faceva praticamente ora poiché parlarvi del di tutto ciò mi piacerebbe soffermarmi su quello che abbiamo visto perché del match tra Drew McIntyre e Canyon Cross sicuramente ne potremo parlare dei pronostici fare tutto quello che vi pare teorie però il segmento proposto ha fatto discutere parecchio che è successo una volta che Drew ha sfidato Canyon Cross è partita la team del buon Canyon ma si è presentato soltanto la moglie lì sulla rampa con Canyon Cross che ne ha approfittato per colpire le spalle lo scozzese è stato un attacco molto villano nonostante questo Drew McIntyre era riuscito a riprendere in mano la situazione era riuscito quindi a mettere le mani addosso a Canyon Cross stava avendo la meglio su di lui ma a un certo punto Scarlett va a dare una mano al marito lo fa con una palla di fuoco che da quanto ho capito è stata un po' contestata molto e addirittura i due lottatori hanno deciso di proporre un altro segmento in corsa d'opera perché non gli era andato bene quello che si erano proposti bravi nel senso bisognava secondo me di prendere in mano il segmento che non stava andando come studiato loro hanno fatto tutto quanto in giro di dieci secondi e l'hanno studiato nel miglior modo facendo risultare tutto quanto fottutamente credibile cioè non era previsto che Scarlett andasse ad attaccare Drew Maynard con lo blu si doveva fermare tutto alla sua palla di fuoco verso il voto scorsese che poi ovviamente Vinon Cross ne aveva approfittato a modo suo invece sono stati costretti ad andare avanti e l'hanno fatto nel migliore dei modi quindi più che parlarvi di quello che vedremo Extreme Rules commentare no voglio fare i complimenti ai due anzi ai tre che erano sul ring perché voleva diventare una situazione imbarazzante invece non è diventata perché l'hanno coperta nel miglior modo possibile quando oggi umariggio ho letto sta notizia mi sono davvero sono davvero stato soddisfatto perché l'hanno coperta nel migliore dei modi e forse se non fosse uscito quella roba manco ce ne saremmo accorti manco ce ne saremmo accorti che non c'è doveva sta il loblo di Scarlett invece le sono studiate tutti in dieci secondi effettivamente la palla di fuoco lanciata da Scarlett non è che sia stata chissà cosa però è pure vero che avevamo già vista avevamo visto anche quello che fece Alexa non è una roba a impatto visivo straordinaria che tu dici sicuramente lo manda a terra lo confonde quindi bravissimi perché hanno fatto un qualcosa che secondo me è stato molto meglio nella palla di fuoco poi perché Scarlett può fare anche questo Scarlett è micidiale come manager di Keno Cross non solo per la sua presenza ma anche per la sua intelligenza e mi auguro che che ne approfittino per dare un ruolo migliore a Scarlett detto ciò Dakota Kai contro Raquel Rodriguez che è entrata più incazzata che mai neanche un sorrisetto è a me aggasato ragazzi sapete benissimo che io non ho in simpatia Raquel quando sorride per tutto quanto è il match pure che fa una manola sorride guarda a me dà dà fastidio ma non che so che mi dispiace che è contenta è che penso che lei essere una big girl dovrebbe cercare di impostarsi in un certo modo qui ha fatto secondo me un'interpretazione perfetta anche perché era arrabbiata per un motivo visto che Ali era stata distrutta dal damage control match che ha dato secondo me poco nulla si capiva che sarebbe successo un putiferio fuori dal quadrato addirittura Raquel Rodriguez ha trovato una nuova alleata in Shotzi Shotzi che ha turnato quindi face Shotzi che come la metti la metti bisogna saperla gestire bisogna ora sapere da un percorso perché Shotzi non è un personaggio facile ragazzi da quando è salita nel man roster si è persa già troppe volte chissà se questa sarà la buona possibilità di rimetterla sulla retta via qui ha fatto un po' l'amica di Raquel Rodriguez più che altro più che amica quella che si voleva vendicare per quello che è accaduto ultimamente e l'ha fatto nel migliori dei modi Raquel Rodriguez è riuscita anche a battere da Kotaka e con una culla certo vedere Raquel Rodriguez un big girl che batte da Kotaka con una culla fa un po' riflettere poteva chiuderla con la finish tranquillamente invece si è optato più per un finale per proteggere la campionessa femminile meglio la campionessa di coppia femminile poi è successo quello che è successo nel post match e va bene così questa roba che su noi aspetti non ci può stare ecco a differenza la roba degli trovo i Street Profits a differenza dei modelli con i New Day questo ci può stare anche perché serve per la narrativa questo ragazzi c'è davvero poco da dire assolutamente main event i Browling Brutes contro i Usos in un main event importante perché c'erano i titoli di coppia in palio ovviamente in un tag team match che è stata davvero una buonissima contesa un'ottima contesa che aveva bisogno dell'overbooking che ci hanno proposto non so non condivido niente le polemiche su ah perché è intervenuto quello o quell'altro ragazzi c'erano a Bordoring Shemus i tipi da Bloodland lì com'è possibile pensare che non partivano qualcosa del genere è giusto così è stato giustissimo così tra l'altro Shemus che glielo vuoi dire nel senso vede Semi Zane che prova andare a aiutare sul finale gli Usos Shemus si mette in bella mostra prende Semi Zane lo blocca e lì l'Imperion si fa vedere andando a colpire Shemus addirittura arriva anche Gunter proprio mette capo il guerriero celtico e lì che fanno i Proving Bruce scendono subito al quadrato e si perdono cioè loro hanno perso il match in quel momento per l'overbooking va bene ma è giusto così che io hanno fatto capire di poter battere gli Usos hanno avuto anche la loro finisher su Jimmy O'J adesso non ricordo bene sono arrivati al 2 e mezzo hanno fatto capire di essere anche un valido team però ci fermiamo lì ci fermiamo lì perché poi se si usa la testa io me lo prendo col finale assolutamente proprio non mi aspettavo di vedere i Bruin Bruins già campioni a Smackdown in questa puntata quindi è un overbooking che appoggio condivido e gli Usos poi sono sono formati un team micidiale proprio a livello di narrativa hanno vinto quando i Bruin Bruins vanno a cercare di aiutare Shibus contro l'Imperium invece lì gli Usos li colpiscono con Double Super Kick on an Hour riportano sul ring il buon Pete Dunn o meglio Butch gli fanno la 1D 1 2 3 gli Usos restano i campioni di coppia e celebrano con solo Siko e Semizain perfetto perfetto anche per quello che si era vista inizio a Smackdown e tutto quanto collegato andava benissimo così la sconfitta dei Bruin Bruins per colpa di quello e quell'altro ci sta secondo me anche perché settimana prossima ragazzi il leader dell'Imperium Gunther riaffronterà Shibus o meglio tra due settimane chiedo veni tra due settimane Gunther Shibus parte 2 tra due settimane ci stava ragazzi dai ci stava non era questo il momento per far perdere i Usos in questa puntata fatemi sapere la vostra ora qui sotto nei commenti come al solito spolliciate commentate condividete iscrivetevi al canale questo ancora fatto ragazzuoli dammi tutto to sweet grazie a tutti grazie a tutti